La cosa che ci ho notato io dopo 11 anni qui è che non bisogna giudicare la gente giusto perché sono da un certo posto perché qualsiasi posto ci sono dei buoni e dei cattivi quindi a guardare alla gente con un certo modo e questa è quella che mi dà cioè non voglio dire che era un po per me non era tanto giusto magari per dirti allora diciamo magari al straniere tipo il marocchini cioè il marocchini quelle che ho visto io che ci sono tante di quella gente ci fanno delle cose e non giusta anche per me c'è da fastidio e lo vediamo tutti e sappiamo tutti ma ci sono altri da tanti sono proprio buoni intelligenti onesti non bisogna mettere tutti quanti nel stesso cestino e questa è l'unica cosa che magari io spero che questo ti è successo anche a te e sicuramente qualche volta mi succede una cosa del genere allora racconto una cosa ero in posta sono andato in posta a ritirare una posta una busta si argenta e ci vado la e con la ricevuta c'era un ragazzo prima di me si è presentato la signora aveva detto il nome non so metti sei questo persona lui detto di sì va bene l'ha dato la busta dopo sono subito io ci ho dato la mia ricevuta lei mi dice sei morta metti un documento per piacere per me non è giusto penso ecco c'è questa cosa che si sente ma non si dici non c'è dico io mi trovo molto bene qua ma sicuramente e ci sono ancora delle gente che non riescono un po e lei l'ha fatto la signora l'ha fatto cioè non è che la faceva apposta solo che secondo me per me questa piccola cosa che ci fa sentire le gente che sono perché io quando vivo qua mi sento che qua il mio paese altrimenti non ci riesco a vivere non c'è nessuno che può vivere in un posto che non le piace o non non trova che questo come il mio paese io mi sento così infatti anche adesso sto facendo la documentazione per la cittadinanza italiana e vuol dire che io c'ho i figli qua la mia famiglia i miei figli c'è la mia casa c'è il mio lavoro quindi ormai quasi un terzo della mia vita c'ho due figli maschi ma al di là di questo ci sono tante altre cose che magari ti dico cioè come che dicevamo questa è una cosa che magari preferisco magari di dirla perché non mi piacerebbe che i miei figli e la gente buona onesta che vivono qua se trattano magari di questa piccola cosa non diciamo che c'è ma la legge è uguale per tutti solo che è di questa cosa che ci fa sentire la gente proprio che sono ormai di paese